musica 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 guarda qua anche l'arpia ma attivo vediamo che succede forse sono una cazzata però non lo so che succede ma cos'è questa? che cazzo è sta roba che non so non attivare niente vediamo tutti ci faccio in due ok oh oh vex il cristale è veloce provo il cristale perché scompare dobbiamo fare subito i cristalli quando finisce gaviro se nooo cristallo cristallo vediamo eccolo fatto ah puoi tornare qui centrale questo non scompare ok un bot no la super no 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 non farlo adesso no è troppo è troppo ce l'ho io adesso ok cristallo dove sta dove sta dove sta chi sta chi sta roba chi sta roba oh mio addio non so che faccio loro ma forse ti servono per evitare di cadere lì sotto quando affondi lui si però dobbiamo ucciderlo che quanta vita si però riusciamo a ucciderlo grazie a grazie al lo città le 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 la veloci stanno scomparendo ma che sta scomparendo la cosa cristallo i cristalli quando li vedi ok ho la super attacca lei attacca lei tu aspetta faccio però loro che rompono le palle ah tu fai loro ok si si appunto non ho mai visto in vita mia prima volta che la vedo non c'è che scompare si ti installo faccio ok fai tu l'oro io ho la super ok abbiamo ucciso in mezzo una cassa un'armatura un petto d'armatura è una cosa fantastica ma hai visto una cosa del genere ma sei andato all'arpia amichevole sì ma è una cosa fantastico non c'è controllo ma vissata barassone e Grazie a tutti.